I carabinieri della compagnia di Palestrina hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Tivoli a carico di due soggetti, di cui uno d'origine romena, accusati di far parte di un'articolata organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione convenzionalmente denominata Oceano, che ha visto l'impiego di oltre 70 carabinieri, due unità cinofile ed il supporto di un elicottero del raggruppamento aeromobili carabinieri di pratica di mare, sono state eseguite anche 26 perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Tivoli, al termine delle quali sono state arrestate altre 7 persone. Si tratta di cittadini italiani sorpresi in possesso di mezzo chilo di stupefacenti, per lo più cocaina e marijuana, pronta per essere inserita nei canali di spaccio locali. È stata sequestrata anche una pistola con matricola a brasa, sostanza da taglio e bilancini elettronici di precisione.